È la giornata dei quattro papi, giornata emozionante, giornata in cui gli occhi del mondo sono fissati su Roma, su piazza San Pietro. Il pello, essendo questa forma circolare più grata all'occhio, più perfetta in se stessa. Il proprio perché doveva avere un portico che per l'appunto mostrasser di ricevere a braccia aperte maternalmente i cattolici per confermarli nella credenza, gli eretici per riunirli alla Chiesa e gli infedeli per illuminarli alla vera fede ed il necessario essendosi superate le sopraddette difficoltà.